Ciao a tutti, questo è un invito alla lettura del libro di Stefano Nazzi intitolato Il volto del male, storie di efferati assassini. Introduzione. Il male non è spettacolare ma umano e dorme nel nostro letto e mangia al nostro tavolo. Questa era una frase di Winston Hugh Oden. Non tutto si può giustificare con la follia e solo a volte centrano le patologie della psiche. Istintivamente pensiamo che la malvagità possa essere catalogata secondo schemi precisi, che una persona perda la testa, che sia vittima di un raptus. Ma la frase perdere la testa non significa nulla. E il DSM, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali dell'American Psychiatric Association, tra le 730 psicopatologie che certifica non considerare il raptus. Ogni azione violenta, anche quella che sembra più improvvisa, è sempre la conseguenza di ciò che è andato costruendosi nel tempo. Pensare che le azioni malvagie si compiano perché qualcuno ha perso la testa, oppure perché vittima di un raptus, ma non si è vittime bensì artefici delle azioni violente, ci tranquillizza e ci mette al riparo in parte dalle paure. Ci allontana dal pensiero che più temiamo, e cioè che i cattivi esistono. Esistono i buoni ed esistono i malvagi. E lo sappiamo, i cattivi colpiscono quasi sempre più deboli, chi riesce meno a difendersi. È possibile rispondere alla domanda, da dove nasce il male? Alcuni ricercatori lo hanno chiamato fattore D, fattore dark. È il lato oscuro, diverso in ognuno, ma con una radice comune, la tendenza a massimizzare la propria utilità individuale. E cioè pensare solo a se stessi, ai propri obiettivi, al proprio disegno. Il motore del fattore D è porsi sopra tutto e tutti, anche se ciò vuol dire danneggiare gli altri, anche se significa fare male. In molti hanno provato a catalogare i vari gradi di malvagità. Uno studio dello psichiatra forense americano Michael Stone ha identificato 22 livelli di malvagità. Una sorta di scala misurata sulla capacità di fare male agli altri. No, non c'è una risposta certa alla domanda, da dove nasce il male? Non può rispondere né vuole farlo questo libro. Qui si raccontano solo alcune storie, quelle di persone che hanno fatto male agli altri. Sono storie diverse l'una dall'altra. Leggerete soprattutto ciò che i protagonisti erano prima e ciò che sono diventati dopo. In prevalenza sono uomini, così come è certificato dalla statistica, ma ci sono anche donne. Sono adulti, ma anche persone molto giovani. Alcuni hanno fatto del male a lungo senza fermarsi per molto tempo. Altri hanno concentrato la loro ferocia in un singolo devastante episodio, come un'oscurità breve ma densa. Qualcuno in carcere ha inseguito strenuamente il ravvedimento e una nuova vita. Qualcun altro non più detenuto ha ucciso ancora, ha provocato di nuovo dolore. E qualcuno non si è mai reso realmente conto di ciò che aveva fatto. Sono dieci storie di donne e di uomini che, come un sasso scagliato nell'acqua, hanno gettato il male. E il male si è allargato in tanti cerchi. Fare del male a qualcuno significa provocare dolore non solo a quella persona ma a tante altre, come in una lunga catena. E a differenza dei cerchi nell'acqua, i cerchi del male non spariscono dopo pochi secondi. Durano a lungo, a volte per sempre. Capitolo primo. Dopo aver ucciso il primo bambino, Luigi Chiatti, scrisse un biglietto. Prese un foglio bianco e con grafia geometrica diede alla polizia le indicazioni esatte per ritrovare il corpo della vittima. Poche righe, scritte in stampatello, le linee delle lettere perfette. Non usò il normografo perché, disse quando lo arrestarono, i segni che lascia sono facilmente riconoscibili e individuabili. Scartò anche la macchina per scrivere. Utilizzò invece due squadre e un pennello pelican con la punta da 0,5 mm. Alla fine mise un post scriptum a mano libera perché si era stancato di usare le squadre. Compose le lettere con calma, fermandosi fra un tratto e l'altro. Meticoloso, preciso, diligente come uno studente modello. Scrisse. PS. Non cercate le impronte sul foglio, non sono stupido fino a questo punto. Ho usato dei guanti. Saluti al prossimo omicidio. Poi la firma. Il mostro. Lasciò il biglietto in una cabina telefonica di Foligno, vicino alla stazione ferroviaria, per la polizia. Poi buttò il pennarello, le squadre, anche la risma di carta. Era il 6 ottobre del 1992. Forse quella parola, mostro, a Luigi era rimasta in mente seguendo le trasmissioni televisive. Le guardava ossessivamente, sempre solo, nella sua stanza al primo piano della villetta di famiglia dove abitava con i genitori. La coppia che l'aveva adottato. Forse non aveva altra parola per descriversi. Da quel giorno Luigi Chiatti fu sempre e solo il mostro di Foligno. Quel nome se l'era dato lui. Quando venne ritrovato il biglietto, Simone Allegretti era morto da 48 ore. Non aveva ancora compiuto 5 anni. I suoi genitori, Francesco Allegretti, benzinaio, e Luciana Lupetti, casalinga, avevano denunciato la scomparsa del figlio domenica 4 ottobre alle 16.30. Poco dopo pranzo, Simone aveva preso la bicicletta ed era uscito a giocare. Pedalava veloce vicino a casa. Una villetta a due piani ha maceratola, poco più di 500 abitanti. E una piccola frazione di Foligno. Si chiama così perché qui avveniva la macerazione della canapa in grandi vasche piene d'acqua. Simone si allontanò da casa di 100 metri, 150 al massimo. Poi rientrò per qualche minuto e chiese alla nonna un sacchetto. Voleva metterci le noci che avrebbe raccolto sotto un albero. Luigi Chiatti lo vide proprio sotto il noce, rallentò e accostò l'auto. Nessuno psichiatra o criminologo o profiler potrà mai dire perché l'impulso di fare del male scatti proprio in quel determinato momento, in quel luogo preciso, che cosa accada alla testa, al sangue e alla coscienza. Chiatti durante un interrogatorio disse che Dio non doveva fargli incontrare Simone. Gli è della colpa a Dio. Ai tre periti psicologi e psichiatri, cui la procura aveva affidato il compito di stabilire se fosse capace di intendere e di volere, Luigi Chiatti disegnò, un anno dopo, la mappa esatta di dove aveva rapito Simone. Nel disegno mise anche le case, tracciò le linee con cura. Si era presentato al primo incontro con i periti tenendo in mano una scaletta ordinata delle cose da dire, da spiegare. Abbastanza alto, robusto, i capelli scuri e folti, indossava quasi sempre i jeans, una camicia scozzese e un maglione scuro. Anche in seguito, in tribunale, durante i processi, era sempre vestito così, sembrava una divisa. Quando lo interrompevano durante gli incontri con gli psicologi, lui si zittiva, sembrava assentarsi, pensare ad altro. Poi all'improvviso tornava presente e ricominciava a parlare. Si alzava, camminava intorno al tavolo. Vi spiego di nuovo tutto, dall'inizio. Lucidamente, con precisione. Da bambino Luigi Chiatti non si chiamava così. Era Antonio, Antonio Rossi. Lo avevano registrato con quel nome le suore del brefotrofio Beata Lucia di Narni, a 50 chilometri da Foligno. L'istituto era in un palazzo enorme, costruito nel 1700, con grandi camerate da 30-40 letti. C'erano bambini da tutto il centro Italia. A fine maggio del 1968 si era presentata timidamente al portone una ragazza di 23 anni, Marisa. Aveva partorito da poco. Il bambino si chiamava Antonio. Lei non poteva mantenerlo, ma non riusciva a staccarsene. Tornò più volte a trovare suo figlio. Blocco così, per anni, la possibilità di un'adozione. Poi Marisa sparì definitivamente. L'ultima volta che mise piede al Beata Lucia fu nel marzo del 1972. Al brefotrofio la disciplina era dura. C'era una suora in particolare che tutti ricordavano come terribile. Era la responsabile della lavanderia. Quando un bambino faceva la pipì a letto, lei lo costringeva ad andare in giro per l'istituto con il lenzuolo sporco in testa. Gli altri bambini guardavano in silenzio, sperando che non toccasse mai a loro. Quando, molti anni dopo, Antonio Rossi era già diventato Luigi Chiatti ed era in una cella del carcere di Prato condannato a due ergastoli, qualcuno si ricordò di una vecchia, brutta storia di un prete che abusava dei bambini dell'istituto. E tra quei bambini abusati ci sarebbe stato Antonia. Venne fatto anche il nome di un sacerdote, ma non c'è mai stato un riscontro, solo voci insistenti. Luigi non ne ha mai parlato apertamente. Fu nel 1975 che Ermanno Chiatti, medico, e Giacomo Ponti, ex insegnante, si presentarono al Beata Lucia con la speranza di poter avere un bambino in adozione. Scelsero Antonio, probabilmente spinti dalle suore. Iniziarono a recarsi con regolarità al brefotrofio per creare con lui una consuetudine, magari anche un legame. Ma Antonio, dopo i primi incontri, cominciò a ignorarli. Spesso non li guardava nemmeno, si chiudeva in sé stesso. Le pratiche furono preparate, ma la coppia decise di rinunciare. Ermanno Chiatti e Giacomo Ponti erano sicuri. Non ce la sentiamo, il bambino non ci vuole. Poi però, quando andarono a salutarlo al brefotrofio, lo trovarono in camera, pronto, con accanto un sacchetto in cui c'erano i suoi pochi vestiti. Ci ripensarono, lo portarono via. Quel giorno Antonio si fermò sul portone di casa, rifiutandosi di salire. Lo fece solo quando gli promisero che sarebbe rimasto per poco, poi sarebbe potuto tornare al Beata Lucia. Il 13 giugno del 1975, a sette anni, Antonio Rossi divenne Luigi Chiatti. Dimenticò presto di essere stato Antonio e dimenticò il brefotrofio. Dirà in carcere allo psichiatra Vittorino Andreoli, incaricato di redigere una perizia, di essere tornato due volte a Narni, una volta con i genitori che lo portarono in giro per l'istituto per scoprire se ricordava qualcosa. Ma lui non ricordava nulla. Si aggirava lungo quei corridoi guardando tutto come se fosse la prima volta. Lì dentro non c'ero mai stato, ecco la sensazione, disse. Ci tornò poi da solo un giorno con il treno da Foligno, ma non ebbe il coraggio di entrare. Restò a guardare il brefotrofio da fuori per un po', fece qualche passo verso il portone e si fermò. Riprese il treno e tornò a casa. I Chiatti vivevano in una villetta a tre piani, a Foligno. Vittorino Andreoli descrisse così la vita in quella casa. Non credo che la si possa chiamare famiglia. Vivevano in un'abitazione a tre piani e ognuno stava nel suo. La madre era una perfezionista, avrebbe diretto un museo delle cere nel quale tutto doveva essere in ordine, tutto preciso. Il padre è un bravo medico, molto impegnato, ma che non aveva messo il figlio tra i suoi impegni. Fine della citazione. Luigi era sempre nella sua camera, come se vivesse da solo. Andava a scuola, rientrava a casa, si chiudeva in stanza, scendeva per mangiare, tornava di sopra. Una routine quotidiana ripetuta giorno dopo giorno. Passava giornate intere senza parlare con i genitori né con nessun altro. La madre raccontò, quando tutto era già successo, che il bambino aveva da subito mostrato problemi di adattamento e segni di aggressività. Sembra uno stereotipo come se fosse un film, una serie tv. Il bambino problematico e aggressivo che con gli anni sviluppa dentro di sé qualcosa di oscuro. Eppure è proprio così. La storia di Luigi Chiatti è questa. Aveva 14 anni quando i genitori pensarono di dover chiedere aiuto a una psicologa. Lo portarono a Roma perché non volevano che a Foligno, città piccola, la cosa si sapesse. La terapia non durò comunque molto. A Luigi non piaceva andare da quella dottoressa e smise presto. Incontrando per l'ultima volta i genitori, la psicologa parlò di marginalità, di iposocializzazione, di un io debole e anaffettivo con scarso controllo degli impulsi. Quando i giornalisti andarono in cerca dei suoi vecchi compagni di classe, molti lo descrissero come attento, educato, taciturno. Una ragazza disse che una volta a una festa lo avevano fatto bere e finalmente si era rilassato. Aveva riso. Un compagno raccontò che durante i cinque anni all'istituto per geometri era sempre stato per conto suo. Mai una lite con nessuno, ma nemmeno un'amicizia. Di pomeriggio non usciva mai, sempre a casa. Solo l'ultimo anno iniziò ad andare alle feste con i compagni di classe. Allora beveva un po' e diventava allegro. Anzi, a volte diventava il centro dell'attenzione cantando e ballando. Diventava simpatico. Qualche anno dopo, quando Luigi aveva quasi vent'anni, i genitori richiamarono la psicologa. Il ragazzo a casa li ignorava, stava sempre chiuso in camera, ogni tanto diventava aggressivo. La terapia riprese, o meglio, forse, iniziò sul serio. Luigi cominciò a parlare, a raccontare qualcosa. Disse alla psicologa che gli sarebbe piaciuto conoscere i suoi genitori naturali, che avrebbe voluto capire, ricordare. Raccontò che sognava di essere su un treno quando all'improvviso appariva un controllore. Lui allora si nascondeva sotto il sedile perché non aveva né biglietto né soldi. Un altro sogno. Sono sul treno, la carrozza all'improvviso si spezza e io mi spezzo con la carrozza. Dopo il diploma di geometra si iscrisse all'università, a Perugia. Il padre lo fece entrare in un collegio dove c'erano altri figli di medici. Non andò bene. Lo accusarono di piccoli furti, lasciò l'università e tornò a Foligno. Partì militare nel 1989. Il granatiere Chiatti viene ricordato come disciplinato e affidabile, gentile e altruista con i commilitoni. Però subì qualche punizione. Una volta perché aveva pulito male la camerata, un'altra perché aveva gli anfibi sporchi, una terza perché aveva svolto con scarso impegno il servizio di pulizia dei bagni. Tornato a Foligno, iniziò a lavorare come geometra. Il suo primo datore di lavoro disse che non aveva mai dato particolari preoccupazioni. E poi la solita descrizione è sempre la stessa. Taciturno, solitario, riservato. Il titolare di un altro studio, da cui andò a lavorare per qualche mese, disse che era molto pignolo nel registrare gli appuntamenti e nel trascrivere le telefonate. A Luigi non interessavano i rapporti con gli adulti, non gli interessavano le ragazze. Spiegò durante un incontro con gli psichiatri. Con la pubertà ho scoperto di essere più attratto verso il sesso maschile. All'inizio non ci facevo caso, poi ne ho avuto la chiara consapevolezza. Quindi al problema della mia solitudine si aggiungeva anche questo. Fine della citazione. A casa ogni tanto l'aggressività compariva. Il padre raccontò agli investigatori che un giorno, quando stavano per partire per le vacanze, Luigi aveva chiuso lui e la moglie in un piccolo locale tra l'ambulatorio e la sala d'attesa. Dalla serratura aveva visto che il figlio era entrato nella loro camera da letto. Poi era uscito, aveva preso la Y10 del padre e se n'era andato. I genitori avevano potuto liberarsi solo chiamando dalla finestra un vicino. In camera da letto, Ermanno Chiatti si era accorto che il figlio se n'era andato portando via il suo portafoglio. Il libretto degli assegni e un piccolo televisore. Quando Ermanno e Giacomo entrarono nella stanza di Luigi, videro che aveva sistemato ordinatamente su un tavolo alcuni indumenti e scarpe per bambini. Luigi Chiatti aveva sviluppato la sua ossessione. Lo raccontò in carcere a chi era incaricato di redigere la perizia psichiatrica. Avevo maturato l'idea di scappare di casa e rapire due bambini in tenerissima età, un anno o poco più, per tenerli con me per la durata di sette anni. A questo scopo, fin dall'estate del 1998, 42, forse anche un po' prima, avevo cominciato a fare provviste di abiti per bambini da tre a sette anni. Spiego poi come il suo piano fosse banale, quasi logico. Compravo ogni tanto capi di vestiario, preferibilmente non a foligno e meglio se nei grandi magazzini, dove non c'erano commessi che potessero ricordarsi di me. L'acquisto dei capi necessari aveva richiesto molto tempo perché ne dovevo comprare una grande quantità. Avevo compilato un elenco di ciò che mi serviva. Doveva bastare per tutto il tempo previsto, sette anni. Avevo anche annotato i nomi che avrei dato ai bambini dopo il rapimento. E poi avevo anche pensato di procurarmi tutto quello che mi sarebbe servito per la pulizia personale. Shampoo, sapone, lamette da barba, crema da barba, dentifricio, spazzolini. Tutto per la durata di sette anni. Nascondevo ogni cosa nella soffitta di casa. Pensavo inoltre di informare i loro genitori del fatto che i bambini stavano bene e che non avrei fatto loro del male. Contavo anche di comprare una Polaroid per mandare le foto ai parenti. Credo che avrei potuto provvedere alla loro alimentazione, alla loro pulizia e anche alla loro educazione. L'unica cosa che non avrei potuto fare è punirli perché ritengo che i bambini debbano solo giocare ed essere educati attraverso il gioco. Fine della citazione. Sette anni. Luigi lo ripeterà poi sempre durante gli interrogatori. Voleva tenere i bambini per sette anni, come quelli che lui aveva trascorso nel brefotrofio. Quando la polizia perquisì la sua casa, trovò un involucro di cellofan trasparente con all'interno cinque scatole contraddistinte dalle lettere C, D, E, F, G e tre borsoni. Sulla scatola C c'era scritto pulizia scarpe deposito unico e c'erano stracci, spazzole, tubetti di lucido da scarpe grasso. Le scatole D, E, F e G erano uguali, la stessa scritta. Bagno più doccia solare e asciuga capelli. C'erano in ognuna delle saponette, fonda viaggio, una doccia da a riscaldamento solare, 32 lamette da barba, usa e getta. Poi dentifricio, crema da barba dopo barba. Nelle tre borse, una grigia, una nera e una verde, c'erano anche indumenti da adulto, ma soprattutto da bambino. Biancheria intima, pantaloni, scarpe, maglioni, magliette. Tutto estremamente ordinato, tutto contato, ma non bastava. Chiatty raccontò agli investigatori che gli sarebbe servito un altro anno per preparare bene ogni cosa, che non era ancora pronto. Però ogni tanto provava l'impulso di trovare un bambino, per avere un po' di compagnia, non per mettere in atto il piano. A volte prendeva la macchina e andava in giro, da solo. Guidava piano per le strade della campagna attorno a Foligno. Disse che nell'ultimo mese, prima di uccidere, aveva avvertito questo desiderio cinque o sei volte, e per cinque o sei volte si era girato in auto lungo le strade di campagna. Quell'impulso durava all'incirca un paio d'ore, poi passava. Prima del 4 ottobre, spiegò, non mi era capitato di trovare un bambino abbastanza piccolo come io lo desideravo. Il 4 ottobre del 1992 però, nel primo pomeriggio, vide Simone Allegretti. Era una domenica. Quel giorno i genitori di Luigi erano in gita a Orbino con l'Archeoclub. Lui pranzò presto, da solo, ma d'altra parte, che i suoi ci fossero o no, non cambiava nulla. Lui non parlava con loro, quasi non li guardava. Lui prese l'Y10 amaranto e iniziò a guidare lungo le strade dei paesi intorno a Foligno. Passò per Maceratola, vide Simone Allegretti sotto il noce, si fermò, scese dall'auto e si appoggiò alla fiancata. Disse durante gli interrogatori che si era guardato di continuo attorno perché sapeva che la ricerca dei bambini era in qualche modo illegale. Disse proprio così. In qualche modo illegale. Poi chiese a Simone dove portasse la strada, lo invitò a sedersi sul sedile del passeggero, il bambino lo fece, Chiatti salì al posto di guida e partì. Lo portò a casa. Ricordò poi che Simone perse una noce dal sacchetto e che lui la raccolse. Entrarono, salirono al primo piano dove c'era la stanza di Luigi. Allora Simone Allegretti chiese di poter tornare a casa. Luigi Chiatti disse poi che la solitudine aveva fatto crescere in lui non solo il bisogno di una compagnia, ma anche quello di un contatto fisico. Ciò che avvenne dopo non va raccontato. Chiatti sostenne che non voleva fargli male, ma è ciò che accalde. Lo spiegò agli investigatori con calma, senza implorare perdono, senza disperarsi. Lo disse come si raccontano le cose che sono successe e per cui non si può più far niente. Chiatti caricò Simone in auto, il bambino era incosciente, lo aveva quasi soffocato con le mani strette attorno alla gola. Prima però gli tolse l'orologio e lo lasciò lì, in camera. E prese un vecchio coltellino con una lama lunga 10 centimetri, percorse la strada verso Sassovivo, voleva andare a Casale perché conosceva la zona, piena di boschi. Lì i suoi avevano una casa, ci andavano sempre d'estate. Si fermò vicino a una discarica, portò Simone ancora incosciente dove iniziava il dirupo. Lo colpì alla gola con il coltello, poi lo spinse giù. Raccontò che fece tutto voltando lo sguardo dall'altra parte. Torno a casa, gettò l'orologio in un cassonetto lungo la strada, il coltello in un tombino davanti al cancello. Poi lavò la macchina con cura, passò tre volte l'aspirapolvere nell'abitacolo, quindi entrò in casa, pulì tutto con la scopa, aria giù la stanza, mise ogni cosa in ordine. Alle 18 aveva finito. Aspettò 48 ore. Lo fece, spiegò, perché c'erano forti temporali ed era convinto che la pioggia avrebbe cancellato tutte le tracce, cosa che lo rendeva più tranquillo. La polizia escluse subito il rapimento a scopo di estorsione. La famiglia Allegretti non era ricca. Era un'ipotesi senza senso. Il 6 ottobre, verso le 11, al commissariato di Foligno arrivò una telefonata. Nessuno parlò, ma la cornetta non venne riappesa. Il telefono fu individuato. Era in una cabina di via Flavio Ottaviani, vicino alla stazione ferroviaria. Un agente della Polfer fu inviato a dare un'occhiata. Trovò la cornetta che dondolava, staccata dall'apparecchio. Sul telefono c'era un biglietto. Chiatti spiegò poi ai poliziotti che, siccome guardava tanti film polizieschi alla televisione, aveva pensato molto come preparare quel biglietto. Aveva usato guanti da chirurgo e una risma di fogli con i buchi di lato, di quelli da inserire nei raccoglitori. Era andato a comprare la risma in un negozio di piazza San Domenico. Ci mise un bel po' a scrivere. Prima del post scriptum, prima della firma Il Mostro, stilò le istruzioni per la polizia. La riga iniziale di quel biglietto era però una richiesta d'aiuto. Aiuto, aiutatemi per favore. Il 4 ottobre ho commesso un omicidio. Sono pentito, ora, anche se non mi fermerò qui. Il corpo di Simone si trova vicino alla strada che collega Casale, frazione di Foligno, e Scopoli. È nudo e non ha l'orologio con il cinturino nero e il quadrante bianco. Fine della citazione. Chissà se era vero che Luigi Chiatti voleva essere aiutato. Ed era davvero pentito? Di certo avvertì che non si sarebbe fermato. Dimostrò ancora una volta la sua pignoleria, la sua ossessione per la precisione mettendo tra parentesi quel fraz di Foligno. Come se la polizia avesse bisogno di indicazioni stradali precise, come se ci potessero essere fraintendimenti. Nei giorni successivi iniziò a uscire di casa più spesso. Girava attorno alle auto di polizia e carabinieri che pattugliavano Foligno alla ricerca di un indizio, un sospetto, un particolare che potesse aiutare le indagini. Luigi Chiatti passava accanto ai poliziotti come se fosse invisibile, come era sempre stato. Non voleva essere notato ma non sopportava più di non essere visto. Aveva paura ma sfidava la polizia. Chiedeva di essere fermato ma non spiegava come. Il 9 ottobre la polizia attivò una linea telefonica antimostro. Chiamarono in tanti mitomani, stupidi, persone in buona fede che speravano di dare una mano creando ancora più caos. E poi medium, cartomanti, veggenti, come sempre accade in questi casi. Il 13 ottobre telefonò un uomo da Milano, disse di essere il mostro. Anche lui usò quella parola per raccontarsi. Chiamò altre volte. Alla fine la polizia gli diede appuntamento in un bar di Rodano, in provincia di Milano. Non si presentò. Telefonò di nuovo e avvertì che avrebbe ucciso ancora, che la colpa era solo della polizia che aveva cercato di fregarlo. Telefonò anche alla redazione del quotidiano Il Giorno. Non ci misero molto a individuarlo. Era un ragazzo di 23 anni che abitava proprio a Rodano. Si chiamava Stefano Spilotros. Lo portarono in quest'ora a Milano, lo interrogarono. Lui confermò. Sì, il mostro sono io. Mi avete preso. Il 17 ottobre fu rinchiuso nel carcere milanese di San Vittore. Interrogato dai pubblici ministeri, descrisse Foligno, raccontò di come aveva preso Simone Allegretti, spiegò come l'aveva ucciso. Forni tanti particolari, sembrava sicuro di sé. Insomma, disse, lo volete capire che sono io? Sono io il mostro. Dell'orologio di Simone disse che non sapeva, che forse era finito sottoterra, da qualche parte. Gli credettero. I giornali titolarono che finalmente l'incubo era finito. Durante l'ennesimo interrogatorio, Spilotros raccontò di aver bruciato Simone con una sigaretta dietro l'orecchio destro. Gli investigatori guardarono le fotografie. Forse un segno c'era, in effetti, ma non era molto chiaro. Esisteva un solo modo per essere sicuri e chiudere definitivamente quella vicenda, riesumare il cadavere del bambino. Venne fatto. Non c'era alcun segno di bruciatura. Niente. Stefano Spilotros aveva appreso tutto dai giornali, aveva studiato ogni cosa, recitato a memoria le cronache che aveva letto. Anche la storia della bruciatura era comparsa su un quotidiano, uno solo. Il giornalista se l'era inventata o forse aveva capito male, e Spilotros quel particolare lo aveva ripetuto. Quando dalla procura di Perugia arrivò a Milano il risultato della verifica sul corpo di Simone, Spilotros confessò, mi sono inventato tutto. Uscendo dal carcere disse solo, scusate per il disturbo. Il 22 ottobre, quando Spilotros era ancora in custodia cautelare, Luigi Chiatti non ce l'aveva più fatta a rimanere nascosto, inosservato. Aveva scritto un altro biglietto, l'aveva fatto trovare vicino all'aeroporto di Foligno, sempre in una cabina telefonica. La tecnica di scrittura era la stessa, precisa, in stampatello. Questa volta il messaggio era più lungo. Si vantava di aver commesso l'omicidio perfetto. Aiuto, non riesco a fermarmi. L'omicidio di Simone è stato un omicidio perfetto. Certo, è duro ammettere che sia così da parte delle forze dell'ordine, ma analizziamo i fatti. Uno, io sono ancora libero. Due, avete in mano un ragazzo che non ha nulla a che fare con l'omicidio. Tre, non avete la mia voce registrata perché non ho effettuato nessuna telefonata, quindi chi dice che ho telefonato al numero verde sbaglia. Quattro, le telecamere non mi hanno inquadrato durante il funerale di Simone perché non ci sono andato. Siete quindi fuoristrada. Vi consiglio di sbrigarvi evitando di fare figuracce. Non poltrite, muovetevi. Credete che basti una divisa e una pistola per arrestarmi? Usate il cervello, se ne avete ancora uno buono e non atrofizzato dal mancato uso. NB. Perché vi ho scritto di sbrigarvi? Perché ho deciso di colpire di nuovo la prossima settimana. Volete sapere di più? Vi ho già detto troppo. Ora tocca a voi evitare che succeda. Firmato il mostro. Molto bene, questo è tutto. Spero che abbiate trovato interessante questo estratto. Fatemi sapere se leggerete il libro. Alla prossima!